Quella tra Picerno e Avellino non è soltanto una sfida che vale la seconda piazza o anche il primo posto, ma è una partita che mette al cospetto della retroguardia dei Lupi un attacco stellare, capace di segnare in 14 partite 26 gol, una media di quasi due a partita. Un reparto che vede protagonista Jacopo Murano che fino a questo momento ha timbrato il cartellino per 12 volte, numeri da capogiro, per il bomber Lucano, un po' all'autauro Martinez dell'Inter. Paragoni a parte, l'attacco dei Picernesi e sulla carta composto da nomi che per la categoria sono una certezza. Gli ex Avellino e Paganese al Badone Diop e poi c'è Vitali, che sono i giusti rincalzi per Longo, che spesso e volentieri ha ottenuto da loro risposte importanti e reti decisive. La sorpresa dell'ultimo match al Francioni è arrivata proprio dal classe 2002 Pablo Vitali, che ha messo a segno una tripletta, portandosi il pallone a casa e per la sua prima volta in carriera. Poi ci sono i vari Sant'Arcangelo e Ceccarelli, che sono nel modulo prediletto del trainer salernitano, il 4-2-3-1, calciatori che stanno esprimendo tutto il loro potenziale. Ma è proprio della batteria degli ex che poniamo l'accento. Murano è la garanzia, in Irpinia non ha lasciato il segno, arrivato in Pompamagna dal Perugia non è mai riuscito a scalare le gerarchie. Scavalcato da tutti, anche nell'anno scorso, quando lasciò l'Avellino per il Potenza. È stato l'autentico flop, che ora invece a Picerno è diventato top. Occia la sua verve da ex, vedi Plescia Messina. Albadoro, arrivato nell'anno della gestione di Cesare D'Agostino, ha segnato tre reti, superando già lo score della passata stagione. Ceccarelli invece è uno che i gol li fa fare a suoi compagni, assist di qualità per il trequartista con il vicio del gol, che insieme a Murano non ha lasciato il quid in Irpinia che si aspettava e che invece nell'aridente Picerno lo ha trovato. Basti pensare al gol, che ha niquilito il Potenza da calcio d'angolo, per capire delle sue abilità balistiche. Al cinema, qualche anno fa, nelle sale di tutto il mondo, uscì la rivincita delle bionde a Picerno, pronta a scendere in campo quella degli ex.